Bella a tutti ragazzi, eccoci in questo nuovo video e siamo qui come potete vedere su Call of Duty Black Ops Red One della seconda guerra mondiale Sta giocando il mio amico ora, non sto giocando io, quindi vedrete molto meglio, dopo fate il confronto Giù nei commenti scrivetemi se gioco meglio io o gioca meglio lui, vediamo Tanto qua c'è il video che è stoppo, quindi noi ci rivediamo tra poco, ciao Ok ragazzi, siamo tornati, come potete vedere i carri armati dei ritesken ci stanno attaccando Il che non è una bella cosa Beh, al momento sta giocando il mio amico, non io, e vi diremo quando sta giocando lui Lo vedrete anche dall'inquadratura perché ora vedete tutto bene e quando ci sarà lui vedrete tutto uno schifo perché lui non è capace a inquadrare No, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno è capace a tutta una borsa Giù la testa, vai giù la testa, vai giù con la testa, muoviti Mi sa che devi cambiare arma Eeeh, in testa Ma te l'hanno, te l'hanno distrutto Dovevi prenderlo prima No, ci siamo confusi Penso che ci sono spaventati Feggio del video di Fabi J È un grande Fabi J, lo stimo tutta la vita Che è sul coso film, sul cosino horror Mamma mia, gli horror in famiglia Sono cagata addosso, Fabi Ovviamente lo conoscerete, ha un milione di iscritti Noi forse ne abbiamo Zero, perché è il nostro primo video Ah beh, comunque Sì, è un po' noiosa questa parte Perché mi fa male il braccio Mangiate la mia stessa polvere Io Fabi J, lo stimo tutta la vita È troppo grande Dai, scoppia L'abbiamo messo in fuga, visto? Vai, vai a prendere il cerco Stimona Lui, lì, lì schifo Si, vai a prendere il cerco Lasciatemi la calibra 50 Vedi che era una 50, lei era una 40 Una Oh ma c'era ancora una Ma c'era ancora un Ma c'era Non sono Ma Johanna Mamma mia Mamma mia Oh, ti li hai trie sm Ministry Oh, ti hai detto di metterla lì, la saldi mi dovrà fare due 50. Ah, ho visto se la doveva prendere lui, ecco perché. Ok, cominceremo facendo un jackpoint a testa. Boh, non lo so, forse. Credo una morte, boh, non lo so. Ma, se no, se fosse una morte io giocherei due minuti. Tutto già tutto il video, visto che posso pubblicare video di qualche minuto, boh, dieci minuti, giusto. E ragazzi, si, stoppo il video finché non andiamo avanti perché se no vi annoiate troppo. Ok, vai. Ok, i nostri amici ci hanno consigliato di non crepare. Credo che li ascolteremo. Forse no. Forse no, probabilmente no perché... Ma come cavolo corre quel tizio? Sembra un handicapato. Non faccio la tenere al sedere. Non faccio la tenere al sedere. Si stava pulendo il culo prima. Ma un ratto, gli sta mordicchiando tutto il sederino, poverino. Oh, poverino, mi stanno mordendo il culo. Cosa faccio? Ma che figo tesoro, tutti io li prendo. Mi stanno mordendo. Mi stanno mordendo. Ma non servono a niente i nemici, tanto li prendo solo io. Stai per morire. Un altro colpo e muori. Mori, mori. Dai, vai a morire, ti prego. Così gioco un po' io. Perché siete voi? Sono tuoi amici, credo. Vediamo. Guarda se ti consiglio di non morire. Dai, guarda se ti consigliano di non morire. Guarda. Ah, hai zero tacche di vita. Esattamente zero tacche di vita. Dai, muori. Potete fare un po' io. Presto. Andiamo. Devi morire. Vai, scherifo. Devi morire. Fuoco nemico sul fianco destro. A ore 12. Ah no, ore 2. Eh, ma che cazzo fa? Ma nicchia un po' Ma non c'è mai niente. Così muori. Lo stai prendendo, cioè. Mi chiamo che la stanno prendendo. Un altro colpo e muore. Guarda, zero di vita. Zero di vita. Ma perché non riesci a morire? Dai, veloce. Sì, ma perché qua non c'è solo i tuoi medici? Dai, muori. Uff. Voi lo fai. Voi lo fai. Se ti levi. Non lo prendo, ma levati. Ma niente, vuole che muori. Prima ti consiglia di rimanere in vita, poi ti vuole uccidere, vabbè. Dai, esci. È già uscito, l'hanno già anche ucciso. Dai, muori. Oh, ma a caso mi auguri la morte. Eh, vabbè, non voglio giocare un po' io. Questa è buona la prima. Sei morto? Sì, c'è cammino. Vai, finni con la foto del video. Sì, mi bruciano occhi, però. Sì, sì. Così. No, dritto, però. Vieni qua davanti. Metti a posto quel divano. Tu parti dal checkpoint, non è giusto. Eh, sì, 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 invece parto dal checkpoint. Ma Luca, cazzo. Cosa? Cosa? Lui naturalmente partirà il checkpoint, quindi non è giusto. No, no, picchio qualcuno. Picchio il vento. Per niente? Per che? Muori il vento. Mori, mori, mori. Sono le sei. No. Sì, basta questo giochi. Ok, basta. Toccava a me giocare, non è giusto. Sì, però, ragazzi, è già un'ora che siete dentro, quindi. Vai da solo così muori. Non ci augura nessuna la morte. Porca cacca. Già come deve piantare di stare più di nuova, eh. Non voglio che sia più di nuova con l'arco. Bom, bom, bom. Vai, bravo. No, com'è che sembra che ci abbassava? Grande. Guarda come faccio headshot sulla testa di quello. Boom, headshot. Ero il mio compagno. Non lo so. Ti riposi in pace. No, non è morto. Perché non muore? Perché non riesco a... Non mi spara più. Non mi sparava più, non è giusto. Colpito in pieno, ragazzi. Colpito affondato. Proprio è così che si fa, vero? Così si gioca Call of Duty. Veramente, veramente incapace. Quello lì è morto. Dai, prendilo. L'ho colpito. Andiamo adesso a colpito il colpito. Dopo tre ore. All'headshot. No, non è morto. Preso, vai. Vai. Andiamo avanti. Vediamo qua, ci sono delle armi. Spero di trovare il kit medico. Spero io di trovare il kit medico. No, mi ha fregato l'arma quello. E' preso solo in mutazione. No, non ho preso niente. Io mi nascondo qua sotto. E' bravo. Così non muoio, no? No, però muoio i tuoi compagni. Ma cosa me ne frega a me? L'importante è che non muoio io. Non puoi più continuare la missione. Davvero? Certo. Giù. Molto, 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 molto incapace. Lanciali una granata, no? Lanciali la granata. Non c'è bisogno. Non metterisci gli gnocchi o i ravioli col sugo? Io? Sì. Uguale per me. Facciamo gli gnocchi? Lanciali la granata. Il sugo col pomodoro ti va bene? Sì, sì. O col tonno, cosa volete? Per me è uguale. Mangi anche col tonno. Airshot. In testa. Però il cuore. Sai che ti è colpire? Cioè, c'è, e riporti... O con tonno ti piace? No, a me non, lo so, non piace, mi dispiace. E' ripartito bene? No, scherzo. Sei ripartito pure prima di quanto ho fatto io e muori. No, non sto morendo. No, scherzo. Sto per morire. Eh, bravo, ma sono un tuo compagno. Ma cosa mi ne frega a me? Ah, no, hai gravemente ferito o hai ferito? Siamo calmi, andiamo. Ah, no, fa finta di morire. Attento che lì c'è una calibra. Non c'è giù così. Tanto vado lì con la calibra, ma non mi fa niente. Ti hai visto? Attento che uno spara di quella calibra lì e muori. Guarda, qua c'è il shot. Ma non dimmi che l'ho preso. Se l'ho preso sono troppo pro. Oh, alleluia. Hai lanciato le brioche che ci sono giù da basso, per caso? Vai, è più veloce, no? Non ci tengo. Ma andiamo più. Ah, non so anche ci sono le brioche giù. Eccolo qua, il kit medico. Dove? No, l'ho preso. Sì, c'è X. Preso, no, mio Dio, ho trovato il kit medico. Sa, grazie a Dio ho trovato il kit medico. Alleluia. Troppo genio. Dai. E quello lì è un mio amico, vero? Sì. E se no lo sarebbe. E qua il secco, vero? Sì. Sì, ha preso il checkpoint. Ciao, bello. Sì, bravo. Vai, dai, sbrigati. No, mi sembra, si è bloccato, non ci credo. Ma veramente? No. Si è bloccato. Sono io fermo. Vabbè, il video termina qui. Spero che vi sia piaciuto. Ciao. 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 ed